Siena è un'attaccante di caratteristiche, faccio una punta centrale ma posso giocare anche come seconda punta e come esperienza passata c'era un bel po' alle spalle, nonostante non sia giovane comunque. Ho giocato a Trapani, a Reggio, a Teramo, ho girato allo stanza. La cosa di Siena è avvenuta tutta all'ultimo e non ci ho pensato un attimo a dire di sì perché comunque sia venire a giocare qua e penso che tutti vogliono venire a giocare a Siena e quindi non ci ho pensato un attimo a dire di sì. Non conoscevo qualcuno, conoscevo Confente, abbiamo fatto il ritiro insieme a Reggio e le sensazioni sono state subito positive perché ho trovato un gruppo che mi ha accolto subito benissimo e poi conoscevo Ciccio Vassallo che è palermitano come me. Tutte sensazioni positive, comunque sono fatta una settimana e spero di riuscire a integrarmi al meglio perché voglio dare una mano alla causa. Sì 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 sì, sto bene, sto bene. Ho avuto un piccolo problemino alla caviglia all'inizio anno però ho ripreso la grande, sto benissimo. Incontrovamo una squadra che sapevamo che è una corazzata attrezzata il meglio possibile comunque, quindi il pareggio noi ci è andato veramente veramente bene. Adesso andiamo a Pistoia, incontriamo una squadra che nelle ultime partite comunque ha fatto molto bene, però noi dobbiamo andare lì consapevoli della nostra forza e andando a fare la partita perché per noi è importantissimo portare tre punti. Certo, da una scossa mentale, comunque ti fa capire che la squadra c'è, la squadra è viva perché una squadra morta non riesce a recuperare due gol al mondo soprattutto, quindi è una cosa positiva, molto positiva. Sono tutti ottimi giocatori, non c'è bisogno di presentarli, quindi si conoscono, c'è Sarini, Guido e poi c'è anche Woteng, sono tutti degli ottimi giocatori, spero di integrarmi al meglio e riuscire a dare una mano alla squadra perché è una voglia matta di giocare. Sì, perché con lui poteva essere un gol importante che ci dava tre punti importantissimi. Ma sicuramente tra le prime posizioni, questo è sicuro, perché la squadra è forte e a prescindere dai nomi che ci sono, io sono qua da una settimana e ho visto una squadra forte, una squadra più importante, una squadra che ha voglia di ottenere dei risultati importanti, quindi sicuramente tra le prime posizioni. Con il mister abbiamo parlato all'inizio, poi il mister è uno che mi hanno detto che sia in allenamento e ti chiede di andare sempre a 2.000, devi andare sempre a 2.000, è quello che comunque sto cercando di fare, anche se sono qui da poco. Mi aspetto una partita difficile perché, come ho detto prima, loro vengono da due o tre partite che sta facendo bene, poi è un ambiente che conosco lì e non è facile giocare a pistoia. Poi la squadra è una buona squadra, conosco un paio di elementi, quindi sarà una partita tosta, difficile, ma noi dobbiamo andare lì con la consapevolezza di quello che siamo noi e sapendo che è importantissimo portare i tre punti a casa. Grazie.